Continua il lavoro per rafforzare i legami culturali e diplomatici tra Calabria e Albania. Dopo la visita dello scorso autunno del presidente Bayram Begai e dopo il viaggio istituzionale promosso e organizzato dal presidente della Fondazione Arbrecht Calabrese Ernesto Madeo, il quale ha riunito numerosi sindaci dei comuni Arbrecht delle province di Cosenza e Catanzaro insieme ai rispettivi presidenti di province e prefetti con l'assessore regionale alle minoranze linguistiche Gianluca Gallo a consolidare ancora di più i legami culturali e storici, aprendo ulteriormente nuove opportunità di collaborazione e scambio tra le due regioni, il presidente Begai restituirà la visita il prossimo 30 aprile. C'è un intenso lavoro di preparazione insieme alla Fondazione Arbrecht e ai comuni dell'intera arberia per la visita del presidente albanese Begai che avverrà dal prossimo 30 aprile al 4 maggio in Calabria e la seconda visita del presidente della Repubblica Albanese che fa seguito ad una prima visita dello scorso autunno e ad un nostro incontro in Albania il mese scorso. Ci saranno una serie di iniziative di grande interesse e di grande importanza in un'azione di modernizzazione dei rapporti fra la Calabria e lo stato di Albania in previsione di future iniziative di grande rilievo e di grande importanza con ricadute anche di natura economica. Nella precedente visita il presidente dell'Albania ha parlato del rapporto speciale con l'Italia dei sei secoli dall'arrivo degli esuli che hanno trovato le porte aperte dal popolo italiano, della vicinanza dell'Italia nei momenti difficili negli anni 90 e per la pandemia e i terremoti del 2019. A separarci aveva detto il mare ma abbiamo comunità arbresci di sei secoli e di 30 anni fa ben integrata e ci sono poi tanti italiani che lavorano e studiano in Albania. La visita di fine aprile in Calabria è un ulteriore passo significativo verso una maggiore comprensione reciproca e una cooperazione più stretta tra la Calabria e l'Albania e sottolinea l'importanza di costruire ponti di dialogo e solidarietà oltre i confini nazionali.